Ci vorrà almeno una settimana in più rispetto alla data preventivata, quella del 4 ottobre. La struttura delle Benedettine non è ancora pronta per ospitare le lezioni degli alunni della scuola Enrico Solito che cercano collocazione dopo che un'interala dell'istituto è stata interdetta a seguito di un cedimento strutturale. I genitori e la commissione consigliere istruzione avevano sollevato l'allarme dopo un sopralluogo effettuato alle Benedettine. Sono stati segnalati ritardi nei lavori e poca mano d'opera impiegata per adeguare il complesso. Nelle scorse ore le famiglie sono state informate dello slittamento. Protesta anche il presidente della commissione istruzione, Salvatore Scerra, che proprio lo scorso 20 settembre aveva denunciato la lentezza nei lavori. Noi in tempi non sospetti avevamo già sollevato il caso per pungere l'amministrazione ad affrettarsi. In questo momento noi l'unica cosa che dobbiamo fare è chiedere scusa alla città, chiedere scusa ai genitori e chiedere scusa soprattutto ai bambini. E di questo ne voglio con del ragione. Si devono dimettere questi responsabili, dal sindaco all'assessore al dirigente che si occupa di questa problematica. Per adesso intanto gli alunni, fino all'apertura ufficiale della struttura in centro storico, dovranno continuare con la didattica a distanza. A questo punto non sono da escludere altre proteste delle famiglie che già lunedì mattina potrebbero recarsi in comune. Fino ad oggi tutte le soluzioni proposte dai genitori e dal comitato spontaneo non sono state accolte dall'amministrazione comunale. A Marchitello abbiamo l'ex professionale femminile che è totalmente vuoto. Parliamo di oltre 25 aule disponibili. Perché non collocare l'intera scuola tutta insieme in un unico edificio, quale poteva essere appunto benissimo, ripeto, a costo zero perché la scuola è agibile, perfetta, funzionante e quant'altro. Lì a Marchitello, presso l'ex professionale femminile, domanda. Perché non prendere in considerazione la scuola di fronte, il museo che è perfettamente agibile con le aule e quant'altro e che poteva essere una buona soluzione? Domanda. Perché non utilizzare il Pignatelli che è perfettamente agibile, funzionale e quant'altro che poteva essere una buona soluzione per tutta la scuola in blocco e collocarla al Pignatelli? Domanda. In tutto questo aggiungo e chiudo la solito attualmente usata, utilizzata. Qual è il paradosso? Se tu da genitore vai alla via Paolo Orsi per chiedere l'involuzione alla segreteria e citofoli, non ti risponde nessuno e ti rimandano alla solito centrale, dove rispondono dicendo che ci fate qua dentro, i segretari e gli applicati. Noi siamo qui perché siamo in sicurezza, in sicurezza, nell'ala agibile e all'asolito. Quindi vorrei che mi si spiegasse a me e a tutti i genitori e a tutta la città il perché segretari e dirigenti possono occupare regolarmente e in sicurezza all'asolito, nell'ala agibile e all'asolito, gli alunni vengono sparsi in giro per la città. Dall'amministrazione fanno però sapere che la data di consegna ai lavori in realtà sarebbe stata rispettata. Il dirigente dell'asolito ha già ricevuto una lettera in cui si chiede che parte del personale scolastico venga dislocato presso le Benedettine, dove inizieranno le operazioni di trasloco già lunedì 4. I lavori di ripristino sono già terminati e da lunedì inizieranno le operazioni di pulizia e sanificazione dell'intero istituto, oltre che il trasloco degli arredi, dicono da Palazzo di Città. Abbiamo deciso di trasferire ufficialmente le classi lunedì 11 di comune accordo con il dirigente, unicamente per consegnare agli alunni un plesso totalmente funzionale, pulito e dotato di tutti i necessari dispositivi anti-Covid. Una giustificazione che però non piace al Presidente della Commissione Istruzione che punta il dito sulla mancanza di programmazione. Per l'amministrazione è sempre tutto naturale o quasi naturale. Qui il problema è un altro, qui il problema è non saper governare questa città, la programmazione. L'Enrico Solito, il solaio è già ceduto il 4 di agosto, avevamo due mesi abbondanti per cercare di collocare i bambini in altri istituti. E' stata fatta male anche la ricognizione delle scuole e questo ne terrò una conferenza con la Commissione per cercare di far capire all'assessore che ha sbagliato la direzione politica per risolvere questo problema. Oggi noi soffriamo un problema generale che è quello della disamministrazione greco. Dalla settimana prossima intanto saranno potenziati i passaggi della Tecra per la pulizia della strada, verranno rifatte le strisce pedonali e verrà posto il divieto di sosta lungo tutta la via Senatore da maggio.